Si è insediato formalmente l'Osservatorio Medi e Minori del Corecom Calabre, organismo che ha tra le sue finalità la diffusione di informazioni sull'uso corretto e responsabile delle nuove tecnologie e dei moderni mezzi di comunicazione digitale, con particolare attenzione ai minori, la promozione e la realizzazione di iniziative di studio, prevenzione e contrasto del fenomeno del cyberbullismo, nonché di tutela della reputazione e dell'identità digitale sul web. La prima riunione si è svolta nell'Aula Commissione del Consiglio regionale della Calabria, un primo incontro al quale hanno preso parte le associazioni ed altre realtà attive nella tutela dei minori ed indirizzato alla presentazione delle attività già programmate dal Corecom e quelle che potranno essere incanalate nei prossimi mesi del nuovo anno. Ufficializzate inoltre le due commissioni di studio che andranno ad occuparsi di specifici argomenti, la prima sulla comunicazione digitale e la media education, il digital journalism e i new media, la web reputation, il cyberbullismo, late speech, il metaverso e l'intelligenza artificiale, coordinata dal segretario Pasquale Petrolo, la seconda di approfondimento giuridico per il contrasto al bullismo online e agli atti persecutori, porno vendetta ed escamento dei minori, stigazione al suicidio e gruppi pro-anoressia e bulimia, coordinata dal vicepresidente Mario Mazza. Alla base dell'operatività dell'organismo, la tutela dei minori dalle insidie del mondo del web, dei telefoni cellulari ritenuti, come detto nel primo incontro, babysitter digitali. Grazie all'osservatorio media e minori, il Corecom Calabria potrà accedere in partenariato alle colle europee. Inoltre è già attivato il progetto Corecom Academy con l'obiettivo di sviluppare nei giovani un'informazione e comprensione critica e il progetto ai confini del web il metaverso e l'umanità digitale. Abbiamo dei dati che sono sconvolgenti, 4.000 suicidi l'anno, i dati sono dell'Istat, 250.000 minori che ogni anno hanno bisogno di cure psicologiche. Questo vuol dire che abbiamo una generazione complessa, complicata, molto complicata direi. I dati, ribadisco, sono allarmanti. Un minore su due ha accesso a siti porno, i cui contenuti a volte possono causare dei danni irreparabili. Qual è il compito dell'osservatorio media e minori? Il compito dell'osservatorio media e minori non è un compito che non può non essere quello della prevenzione, quello dell'aiuto, quello del supporto. Faremo affidamento in questo percorso a associazioni che operano già del settore da tantissimo tempo, chiederemo un intervento e un supporto e un aiuto della scuola, ma soprattutto delle famiglie. Perché, ribadisco il concetto, una generazione che è avanti a noi anni luce dal punto di vista tecnologico, dal punto di vista informatico, ma una generazione stranamente, imprevedibilmente fragile, fragilissima. Il Comitato regionale per le comunicazioni, fin dal suo insediamento, ha voluto con naturale la sua attività, avviando una contaminazione dal punto di vista etico e valoreale su tutto il sistema della comunicazione e dell'informazione calabrese. Da qui nasce l'istituzione dell'osservatorio web e minori, che andrà, diciamo, intanto ad affrontare tutte le questioni inerenti alla media education, per far cogliere alle nuove generazioni calabresi, ai minori, le opportunità che la rete offre, ma anche per tutelarli dalle insidie, penso a fenomeni quali il cyberbullismo, l'hate speech, il revenge porn, le fake news, con problematiche alla quale il mondo dell'informazione tutti i giorni si trova a combattere, ad affrontare per l'interesse dei cittadini.